Da marzo 2020 a febbraio 2021 la polizia di Bari ha arrestato 484 persone, 218 delle quali per reati di droga, sequestrato quasi mezza tonnellata di sostanze stupefacenti, soprattutto marivane, denunciato altre 2.508 persone. Sono solo alcuni dei dati contenuti nel bilancio annuale fornito dalla Questura in occasione del 169esimo anniversario della Fondazione del Corpo. In un anno i poliziotti baresi hanno ricevuto segnalazioni tramite il sistema Yolpol e conseguentemente indagato anche su 48 episodi di bullismo e 29 di violenza domestica. La polizia postale attraverso il monitoraggio della rete internet ha proceduto a 1.364 richieste di inserimento in blacklist di siti web per pedopornografia online e denunciato 493 persone per pedofilia e e-commerce illegale. Dall'inizio della pandemia, 263 poliziotti delle province di Bari e Barletta andiatrani, contagiati dal covid, 58 dei quali attualmente positivi, 699 quelli finiti in quarantena. In poco più di un anno, secondo quanto emerge ancora dal report, sul personale dipendente della Questura del Capologo Pugliese, sono stati eseguiti quasi 3.000 tamponi e all'8 aprile somministrate 2.374 dosi da medici e infermieri dell'ufficio sanitario della Questura di Bari. A polizia di Stato, 1.468 vaccinati, dipendenti della Prefettura di Bari, 138 e vigili del fuoco della provincia, 511.